Musica, arte, teatro, tradizione, tutto questo è miti e leggende di Napoli, lo spettacolo itinerante organizzato da Acli Beni Culturali Napoli, presieduta da Pasquale Gallifuoco, che ha riaperto a cittadini e turisti le porte di alcune tra le più belle chiese e basiliche della città, come la Basilica di San Francesco di Paola, la Chiesa di Santa Maria della Stella e la Chiesa di Santa Maria dell'Aiuto. Noi come Acli Beni Culturali e anche come segretaria delle Acli abbiamo già da tempo pensato di fare un evento che parli di un solo Dio interreligioso sulle tre religioni monoteiste, quindi quella ebraica, cristiana e musulmana, dove il senso è quello della pace e l'unione dei popoli. L'iniziativa è stata possibile grazie al supporto della Regione Campania attraverso SCABEC in collaborazione con l'Istituto Superiore Caselli De Santis, una tre giorni che ha messo insieme scuola, teatro, cultura, intrecciandoli con una serie di visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale della città di Napoli. Raccontati dai figuranti le storie di Eleonora Pimentel Fonseca delle sorelle Toraldo e infine dell'esorcismo di Santa Candida. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Don Salvatore Giuliano e Don Luigi Castillo, consulente nazionale per la pastorale della salute. È per me una gioia ospitare la manifestazione della SCABEC, delle Acli e dei beni culturali all'interno del santuario di Santa Mare dell'Aiuto, situato nel centro storico della città di Napoli, perché questo ci dà la possibilità, a me come parroco e alle associazioni che ospiteremo, di far conoscere questo gioiello del barocco napoletano. Diventerà un progetto forte per lo sviluppo dei beni culturali, legando insieme, come ripeto, associazionismo, scuola e chiesa. A fare da quinta scenografica i concerti di Markham Bentaleb. La mia musica racconta cultura, tradizioni, varie lingue, varie razze, varie religioni e Dio è unico per tutti noi.